E' una curva che non si ferma e non si stabilizza, quella dei positivi registrati in città e provincia. Nelle ultime 24 ore sono 462 i pazienti positivi in isolamento domiciliare, 117 a Caltanissetta, 89 a San Cataldo, 64 a Niscemi. Si abbassa il numero dei positivi a Gela, soltanto 52. E intanto si contano ancora. Si è deceduto un paziente positivo di Gela che era stato trasferito dalla terapia intensiva. Quando la terapia intensiva fu chiusa era un ex caposala dell'ospedale Vittorio Emanuele, la città è nel Cordoglio. E intanto per i numeri nella complessità i dati risultano 1330 positivi a Caltanissetta in quarantena domiciliare, 13 in malattie infettive e 3 in terapia intensiva. Si abbassano anche i numeri di Gela al momento inferiori rispetto a quelli di Caltanissetta, 1196 i positivi in quarantena domiciliare, 17 i positivi in malattie infettive e nessun ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso sono 70 i positivi ricoverati in malattie infettive, mentre soltanto 5 sono i ricoverati in terapia intensiva.